Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Pippo Review e oggi siamo qui con un mega unboxing della nuova collezione di D'Agostini sempre del brand Enco ovvero gli Scorpions Enco Slime Edition si ragazzi eccolo qua questa nuova collezione della D'Agostini noi siamo molto 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 curiosi di aprirla eh Pippo e di vedere allora da cos'è formata questa collezione è formata da dei barattoli che è da dei barattoli che dentro contengono uno slime ma da una parte e poi uno scorpione dall'altra parte bravissimo contengono uno slime e uno scorpione quindi sono veramente molto ricchi questi prodotti e il colore dello slime lo potete già capire dal barattolino come esempio vedete da qui lo potete già capire da fuori così lo potete scegliere voi il colore però lo scorpione è a sorpresa quindi lo scorpione è sorpreso allora ci sono 10 slime di 6 speciali bravo infatti da qua come si può vedere dalla scatola ci sono 10 colori di slime e 6 speciali però 2 si illuminano al buio 2 sono fluo e 2 metal da qua invece gli scorpioni sono 12 12 e 2 sono speciali bravissimo si illuminano al buio 2 e qua c'è tutta la collezione ok ok dai anche io direi subito di vederli noi abbiamo preso tutta la collezione abbiamo preso due doppioni per fare questi due se non sbaglio si bravissimo per fare poi una cosina dopo ok adesso li togliamo tutti fuori dalla scatola ok bravissimo diciamo quali sono gli speciali allora ci sono due che si illuminano al buio sono questo qui vi può farlo vedere tu questo azzurro e poi il giallo azzurro e poi giallo i due fluo sono questo verde chiaro e questo quello no e quello arancione questo qua vai per vedere questo bravissimo e mentre i due metal sono questo qui che appunto come colore argento e poi quello oro ovvero questo quindi questi due oro e poi questo qui che sembra argento sono i metal quindi gli altri il blu il rosso il nero e il verde petrolio sono normali perfetto ragazzi ah il prezzo del mio barattolino è 3,50 euro e ok dai dai abbiamo Pippo ah prima 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 vi facciamo vedere il magazine infatti il gadget è legato al magazine ok guardiamoli insieme e questo qui bellissimo gioca con gli slime naturalmente io Pippo adoriamo gli slime 12 micidiali scorpions and co collezionali tutti ragazzi si veramente vi consigliamo anche a voi di completare la collezione perché sono secondo noi troppo belli poi gli scorpioni sono degli animali un po' ti non possiamo dire pericolosi quindi sono molto belli vedete ci sono tante informazioni sui scorpioni caccia notturna un pesce peloso ok guarda questo qui Pippo bello quindi imparerete molte cose drago di comodo mostro fluorescenti cioè guardate quante informazioni ragazzi ragazzi c'è anche un quiz eccola qua c'è tutta la collezione bellissima poi collezionali tutti giochi a tutto slime in ogni barattolo trovi uno slime di colore diverso viscidissimo mescola colore diversi mira lancia acchiappa poi si acchiappa lo scorpione appunto perfetto ah qua c'è anche il sito www.catturiditutti.it vai sul sito e partecipa subito al concorso poi ragazzi c'è un concorso eh sul sito magari ve lo facciamo imparire qua così mi raccomando andate a partecipare allora adesso Pippo sta già per aprire anzi prima direi di togliere tutta la plastica ok aspetta aspetta togliamo prima tutta la plastica abbiamo aperto abbiamo fatto due torrettine bravissimo Pippo ha fatto due torri di slime allora vai iniziamo direi con quelli che si illuminano al buio quindi no 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 quelli speciali si si che sono speciali ovvero questo qui azzurro chiaro cioè azzurro e poi giallo allora apriamo i vertolini sono molto molto carini guardate che belli a me piacciono tantissimo allora ok hanno anche lo strato protettivo eh ok vai Pippo tu quale vuoi? questo qui? vediamo un po' adesso apriamo attenzione c'è già lo slime aspetta metti male di qua questi allora apriamo vediamo un po' mi raccomando ecco lo slime giocate sempre su superfici lavabili come tavolo pavimento non muri che bello il tuo azzurro che bello ragazzi no ragazzi sembrano veri sembrano reali mamma mia mi sopra anche il mio cocco cocco mamma mia mi aspettavo mi aspettavo solo qua nella bustina oh mamma ok facciamo vedere cosa c'è scritto qua ah qua c'è la checklist ok perfetto così qua vi segnate tutto è umido è freddissimo lo slime è freddo eh sì lo slime è sempre freddo ok guardate che bello questo giallo Pippo fai vedere il tuo cioè sembrano non so l'acquaella quando c'è l'acquaella in bocca bellissimo vai ok cioè quando c'è l'acqua in bocca diciamo un po' i nomi invece di questi qua magari prendo il booklet ragazzi ben trovati i due speciali sì che brillano al buio io questo qui lo scorpione è bicolore e questo lo scorpione giallo guardate come sono cioè sembrano reali wow bellissime allora andiamo passiamo oltre però come li mettiamo Pippo così vai versiamogli lo slime oh mamma mia non mi è venuto tanto spaventosi ok mettilo là Pippo questi qua sono quelli che si illuminano al buio ah come sempre per quelli che si illuminano al buio vi consigliamo di metterli dieci minuti sotto la luce del sole e poi così l'effetto sarà più più evidente bravissimo è migliore ok bravissimo poi passiamo altri al blu ok che è normale allora io apro un altro normale quello è il nostro si lo apro io ok vai ok vai qua c'è lo slime aspetta butto la carta ma sembra quello lì dei film allora vediamo un po' prima lo slime paura ragazzi che bello il mio verde ok vediamo un po' i nomi Allora quello verde lo scorpione diavolo Che schifo E mentre quello di Pippo No dammi questo Ok Mentre quello di Pippo è Ok lo scorpione gigante Veramente sono anche Grandi ragazzi Mamma mia Ok mettiamoli anche qua sopra lo slime Li mettiamo più qua Li mettiamo lo slime sopra Allora qua sopra Mamma mia questi qua Sono perfetti per delle sfide Ma anche per fare degli scherzi Ok Perfetto Vai poi Finiamo gli altri due Pippo non speciali Ovvero il verde petrolio E il nero Quale vuoi tu? Tu quale vuoi? Questo è il verde petrolio Allora tieni O io trovo lo scorpione più gigante Sì I secoli Vediamo Ok Ce l'ho fatta sapete che io Che figo Ci metto sempre un po' Ok vediamo un po' Mamma mia che bello lo slime nero Bellissimo Il tuo Pippo? Wow bellissimo anche il tuo Poi scorpione Ah Uno nero Anche il mio Anche il tuo Amici No non sono doppi perché sono diversi Anzi no Sì Wow abbiamo trovato un doppio insieme Beh Non importa Uno per me e uno per Pippo Allora Questo qui è Vediamo un po' Quale Pippo? Questo? Quale? Conta il cono? Sì Questo qui è lo scorpione nero Appunto Bellissimo Ok anche questo qui Va sotto il suo slime E anche il tuo E anche il tuo Vai Vai Ok Adesso passiamo a Sì sto volendo la scatola Ragazzi Allora l'argento Ok oro e argento Quindi in metal Tu e l'oro Vai Pippo l'oro E io l'argento Dai Via Ok Bravissimo Molto divertente Aprire questi barattolini Perché appunto Ci hanno due sorpresine Quindi Via Che bello l'argento Che bello l'orento Bello l'oro Wow Poi me e l'oro l'argento Fanno pazzire Cioè guardate che bello Il mio argento invece è No Tiplo Tiplo Ah triplo Vabbè Lo regaleremo a qualche nostro amico Ok È triplo oppure l'altro Perché c'è anche un altro tipo No è triplo Anche Quattro Wow Quattro Bellissimo I nostri amici saranno molto contenti Ok Quattro dei Perché c'è anche un altro Così Che è il Balla come il papo Scorpio italiano No però No Quello nero Doppio Perfetto Quindi vabbè Li mettiamo Anche questi qua Sotto In slime Uno E poi Bippo il tuo Due Bravizio Poi ultimi due slime Ovvero il tuo Allora Quale vuoi tu Verde o arancione Vai Ambaram Ambaram Ciccocco Se ci mette sul comodo La fila del dottore Il dottore si ambala E tanto io ritiro Ambaram Ambaram Ciccocco Vai Tu verde E io l'arancione Ok Dai me lo fai Vai Ciccocco Ti piacciono tipo Eh Tanto Tanto Sono bellissimi Ve li consigliamo tantissimo Che bello Bello E non è doppio Altri Barattoli Perché Devo assolutamente Trovar quello E fluo Guardate come è fluo Guardate Guardate Mi faccio vedere il mio bed Bravissio Ce son fluo Ma guardate Quanto son fluo C'è tantissimo Ma il verde è normale Vai mettiamola sopra Pippo Uno Due No aspetta Ecco subito Uno Due Tre Guardate Gli occupetti Bravissimo Emo Ok adesso qua Il nostro tavolo è pieno Nei nostri bristi Scorpions E anche slime E anche slime Aspettate che questo stavo unendo Ok Noi uniamo questi Ma uniamo i doppi Gli slime doppi Che abbiamo preso Appunto per unirli Perché unendoli Otterrete dei nuovi colori E noi i doppi Quali abbiamo qui Pippo L'oro E il nero Allora quindi Li apriamo Aspetta Pippo Che ti aprirò bene questo qua No C'ho un mio bubo L'hai già aperto L'hai già aperto No ho già tolto la carta Vai Ok Quindi questo slime Poi lo scoppione Vediamo lo scoppione Com'è Vai lo scoppione Ok ragazzi E quello doppio Vabbè Arancione Ok Mettiamo dentro I Vai Dammi questo qui Nero No io Adesso mischiamo oro E nero No ma io penso Che viene fuori il ghigio Sì No Vediamo Esperimento Sperimentiamo insieme Dammi il black Vai Anzi Lascia quello lì ora E mischiamo questo No Bravo Pippo Mischia 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 Aspetta 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 Che stanno Si mischiano bene Potto Guardate ragazzi Oh mio dio Guardate com'è venuto Oro e nero Però un effetto Molto bello Eh Molto carino Bellissimo Ecco qui Tutti Scorpions And co Sono bellissimi Sì veramente ragazzi Sono bellissimi Dei colori Dei slime pazzeschi A me mi piace Soprattutto quando Fanno questo effetto Che si allagga Gli slime Sì poi Gli slime C'è una cosa bellissima Anche gli scorpioni Quindi che dire ragazzi Prendetela anche voi Noi continueremo la collezione Perché vogliamo Tutta la collezione Degli scorpioni E Pippo Quindi mi raccomando Scriveteci questo nei commenti Se le avete prese anche voi Quali sono i vostri Preferiti Se avete fatto degli scherzetti Dei vostri amici Pippo naturalmente Ma ne farà tanti Guardate Guardate Che cosa fa lo scopri C'è la bolla C'è la bolla Mi raccomando Mischiate anche voi Dei colori Come abbiamo fatto noi Vengono dei colori Guardate come è venuto bene Bellissimo Ok E Se avete visto questo video Mettete un bel Fallice in su Su 7 e 2 Ci vediamo il nostro canale Così ho tanti Atti video Qual è questo video Che mi basta Amici e scelte Esta 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 Bomba Sì ragazzi Lasciateci i bellissimi commenti Come fate sempre Noi vi ringraziamo tantissimo E quindi Saluti da Tina E poi Ciao al prossimo Ciao 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 Ciao